ciao ricco sono vincenzo della black squirrel come va è da un po che non ci si sente senti stavo pensando l'altro giorno guardavo i tuoi video ho visto che quest'anno fai il decimo anniversario del canale e ho pensato perché non facciamo qualcosa insieme tipo non lo so una linea special edition dei bracciali dei gadget siamo qualcosina fatta insieme non lo so dimmi te dimmi che ne pensi ciao ricco allora ho visto che hai letto il messaggio ma non ho ricevuto nessuna risposta dai fammi sapere ciao buona giornata ricco guarda capisco che probabilmente non lo vorrai fare quindi non importa per me era solo un'idea però almeno avvisami dai ricco 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 ehi vincenzo ciao e scusami sai sono stato un po impegnato sempre tante cose da fare il lavoro le cose no ti sto prendo per il culo devi sapere che da quando tu mi hai detto sta roba io non ho fatto altro che pensare a quello ce l'avevo proprio come chiodo fisso ho detto devo progettare una grafica fatta come si deve devo pensare a come fare i bracciali i colori le forme insomma guarda non ho fatto altro che fare quello ma ho preparato un sacco di poste cartacee ho fatto dei progetti a computer c'è guarda sarà una figata ti mando tutto e poi mi dici cosa ne pensi ricco cioè io sono un po scioccato perché è una settimana che ti scrivo mi stai facendo venire un attacco di gastrite per il nervosismo e tu già hai fatto tutto ma almeno dimmelo rispondimi cacchio vabbè comunque dai sono contento e girami tutto e vediamo che ne esce fuori dai ciao caro un abbraccio è stato un po un parto devo ammetterlo però è stato allo stesso tempo soddisfacente sono sono contento di quello che abbiamo fatto un bel risultato e penso anche che possa venire apprezzato come lavoro sia dal progetto ma anche al prodotto finito che ha una qualità che solo tu solo tu sai fare penso che un progetto artigianale di questo tipo sia la cosa migliore perché fa capire quanto noi magari ci teniamo a dare un certo tipo di servizio piuttosto che è una roba fatta in serie no dove alla fine li punti a vendere di più il più possibile cioè non ci facciamo schifo i soldi vero però insomma ci teniamo tanto che il cliente finale abbia esattamente quello che è quello che vuole quindi bomba si parte non ci facciamo schifo i soldi vero quando vincenzo mi ha parlato di questo progetto io ero talmente carico che nella mia testa stavano già forlando tutte le idee ed ero anche già abbastanza convinto di come avrei voluto diciamo strutturare il tutto abbiamo creato per voi due linee di bracciali la linea urban e la linea outdoor questa è la linea che più riprende i toni del mio canale del mio logo dello stile quindi questo grigio e questo verde acqua quindi sicuramente una linea anche più pulita più elegante da portare con un outfit di tutti i giorni e una linea che invece si avvicina di più al giocatore e comunque a quelle persone che amano proprio lo stile un pochino più diciamo bushcraft style questo qui è il simple plus chiton è molto particolare perché ha questa divisione netta di colori e soprattutto a un intreccio inusuale rispetto ai classici bracciali in paracord che siete abituati a vedere questo qui è il big classic e come dice la parola stessa ha il classico intreccio da bracciali in paracord big perché questa è la versione un pochino più grossa rispetto a quello standard si caratterizza per il fatto che principalmente è grigio però all'interno vediamo quest'anima verde acqua che gli dà quel tocco in più questo qui è sempre un big classic però versione plus perché nonostante l'intreccio identico all'altro presenta questi due elementi inseriti qua sul fianco che visti così sembrano una roba abbastanza semplice ma vi assicuro che a livello di costruzione non lo è per niente e per finire abbiamo questo colosso ovvero il sunto king cobra questo è in assoluto quello con la trama più complessa e grossa che ci sia tant'è che presenta tutti i colori ovvero il coyote il grigio e il verde acqua e soprattutto signore e signori guardate qua abbiamo una vera e propria bussola assunto originale ed è inutile dirvi quanto la qualità di questa bussola sia particolarmente buona questa qui è la scatolina che conterrà i vostri bracciali ne vado veramente molto fiero quindi trattatela con cura la progettazione di sta roba è durata veramente un sacco di tempo si parla di mesi il valore aggiunto di questa grafica principalmente proprio la fascia che ricopre questa scatolina è dato dal fatto che ognuna verrà firmata e verrà applicato un numero seriale quindi ce n'è un numero finito e quando finiranno poi di questi non ce ne saranno più ma non è finita qui perché abbiamo pensato di creare per voi una prevendita in modo tale da darvi un accesso anticipato all'acquisto di questi bracciali per le prime 24 ore avrete uno sconto del 30% sull'acquisto di 1,2,3,4,5,20 bracciali quelli che volete e solamente per i primi 10 che effettueranno l'acquisto sul sito riceveranno la patch ufficiale del canale questa è una dei due modelli che ho e si tratta di una signora patch in cordura tagliata a laser con questo interno reflective rosso solo per i primi 10 poi basta dopodiché passate le prime 24 ore avrete ancora 10 giorni di prevendita con uno sconto del 20% ed ora sapete che vi dico? che ho parlato anche abbastanza quindi non mi resta che salutarvi io spero che sta roba vi piaccia e vorrei vedere il riscontro poi effettivamente con gli ordini magari sarebbe anche bello dopo tutto l'impegno che ci abbiamo messo comunque io vi auguro buone feste perché probabilmente prima di Natale non ci vedremo qui sul canale ci vedremo su Instagram comunque siamo sempre attivi ultimamente non molto vabbè insomma ci vediamo da qualche parte comunque come al solito prossimo lunedì alle 18 sarò qua con voi con un video molto particolare vi piacerà un casino e soprattutto vi coinvolgerà tutti quanti avete già capito di che cosa sto parlando ma per chi ancora non lo sa niente spoiler bene noi ci vediamo come al solito prossimo lunedì alle 18 sempre qui sul canale ciao a tutti e buon Natale buon Santo Stefano e buona fine dell'anno tutto